Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di TV Molise. Questa mattina in prima pagina le case green, ieri l'ok dell'Eurocamera al testo della direttiva e poi lo scontro sui cieli del Mar Nero tra il drone statunitense e i jet russi. Cominciamo però dai fatti locali, cominciamo parlando di macro-regione Abruzzo-Molise perché adesso il progetto ha un nuovo sponsor, si tratta di Legnini, ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Antonio Leone. Un passo indietro di 53 anni quando l'Abruzzo e il Molise erano una sola regione. Se ne è parlato tanto in questi ultimi anni, senza mai però mettere nero su bianco, una proposta effettiva. In verità, da un punto di vista economico e commerciale, diversi sono stati gli accordi stipulati per creare una macro-regione adriatica che comprende anche le marche. Tra questi il più importante è quello stipulato nel 2020 tra i presidenti delle tre regioni ad Ascoli Piceno quando si parlava di rilancio infrastrutturale e sociale del centro-sud Italia. Ma l'accorpamento da un punto di vista istituzionale è assai più complesso, sia per motivi campanilistici ma anche per le procedure burocratiche abbastanza tortuose e lunghe. Questa volta però l'unione tra Abruzzo e Molise ha uno sponsor d'eccezione, l'abruzzese Giovanni Legnini. Innanzitutto io sono innamorato della vostra regione, che mi piace tantissimo. Siamo cugini, se non fratelli, perché appartenevamo alla stessa famiglia. Io da sempre ritengo che Abruzzo e Molise farebbero bene a unirsi, rappresenterebbero una regione più forte e credo che si ricomporrebbe una storia che merita di essere vissuto unitariamente. Ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e per finire ex commissario alla ricostruzione del terremoto del centro Italia, una sfilza di incarichi di prestigio ricoperti che vorranno pur dire qualcosa. In effetti Legnini ha la fama di avere un peso specifico rilevante nelle stanze che contano. Insomma, chi ancora crede nella macro regione Abruzzo e Molise ora sa a chi rivolgersi. Andiamo adesso a vedere i titoli di questa mattina. Cominciamo dal quotidiano del Molise, PD 5 Stelle, Federico. Non avere imposizioni non significa chiudere le porte a chi non è molisano. Decide il tavolo, ha detto torna in auge Iannacone. Domani la direzione PD, giovedì nuovo incontro tra partiti e movimento del centro-sinistra. Resta ancora da sciogliere il nodo del perimetro. La strada imboccata sembra essere però quella che porterà all'alleanza. Ma il cammino resta irto e ricco di insidie. L'unico nel mento, certo, al momento riguarda la base programmatica. E poi su Molise oggi il buco milionario della banda molisana del bonus. 100 milioni di crediti fittizi solo per il 2022. La grande truffa nazionale sui bonus edilizi comincia a emergere clamorosamente anche in Molise. Dove la Guardia di Finanza dopo i riscontri dell'anno scorso ha messo le mani su un altro giro di fatture e crediti falsi da 9 milioni di euro. Ci spostiamo sui titoli cartacei e cominciamo da nuovo Molise, via libera alla condotta dell'acqua dalla diga del Liscione alla Puglia. Il Molise sta a guardare il prelievo di 60 milioni di metri cubi dell'invaso regionale. Il decreto di finanziamento dell'opera di 10 chilometri. Sul taglio alto invece vediamo Cotugno e 715 mila euro per i suoi pruriti. E poi così Lotito prova a salvare Toma l'emendamento presentato in Senato. E poi sul taglio basso vediamo chi se la sente di fare il bello il MACT di Termoli, il concorso per l'allestimento al museo. Ci spostiamo nelle pagine interne del nuovo Molise per leggere 715 mila euro per i pruriti di Cotugno. Gli spot d'oro pagati a ferrovie dello Stato. L'assessore regionale propaganda con i nostri soldi un territorio turisticamente difficile da raggiungere per i treni che non funzionano e gli autobus obsoleti. L'altra pagina del nuovo Molise. Crescono tutti tranne il Molise. Il saldo negativo delle esportazioni fotografato dall'Istat. Lo sviluppo uscito da una camera oscura che ormai avvolge tutta la regione per corpà della politica che non sa guardare al futuro. Andiamo a vedere la prima pagina di primo piano Molise. centrodestra. La Lega detta i tempi agli alleati. Il coordinatore Marone ribadisce il no di Salvini all'ipotesi Toma Bis. Noi, in giunta nell'ultimo scampolo di legislatura, non è lontanamente immaginabile. L'auspicio è che Roma vali di una decisione assunta sul territorio. Programma il candidato presidente non oltre l'inizio di aprile. Poi Serni, il caso archiviato, Vigliardi, resta primario di chirurgia intesa tra il rettore e Toma. L'Unimol aggiorna il protocollo. E poi ancora vediamo i crediti inesistenti e fatture false per 9 milioni. Mascherata, maxi truffa, frode fiscali, bonus edilizi fantasma, diversi imprenditori nel mirino della finanza. E poi ancora Guardiareggia, seccità, 20 milioni dal MIT, fondi pure per arci chiaro. La diga non può entrare in funzione senza le opere di derivazione. Ci spostiamo nelle pagine interne per leggere quella di Campobasso, Terminal da decenni nei programmi elettorali. Gravina infrange il tabù. A settembre partono i lavori di riqualificazione in via Vico grazie ai 15 milioni del PINCO. Interventi in tutto il quartiere. Ancora alimentazione e cure naturali per una vita longeva. Se ne parla alla bibliomediatica lunedì 20 marzo alle ore 18. E poi ancora Campobazar, domenica al mercato coperto di scena, il baratto. La pagina dedicata a Diserni è invece chiuso. Il caso Vigliardi resterà al Veneziale. Unimo l'aveva già deciso il sindaco Castrataro e Emilio Izzo ieri mattina ricevuti dal Digigollo. Ma in agenda restano le criticità della sanità. Manifestazione a Roma. E ancora anche la delegazione del PC al presidio, al fianco degli OS mandati a casa. Ancora, comunistico il Rolex, agliate le accuse a carico dell'ex consigliere Stefano Testa. Ci spostiamo sulla pagina dedicata a Venafro per leggere inquinamento della piana di Venafro. Incontro pubblico per illustrare i dati trimestrali. Ad annunciarlo Giuseppe Notte, partecipazione democratica Emeto e Molise presenteranno i risultati dei rilevamenti delle centraline installate in via Campania e via Duomo. Sul taglio basso invece il trasporto sociale, a chi è rivolto e come funziona, le precisazioni. di Tommasone. Andiamo su Termoli adesso. Vertenza Vibac, Wiltec si punti a una maggiore competitività. Solo ottimizzando i processi produttivi nei vari stabilimenti si salvaguarderebbero i lavoratori. E poi la Gigafactory, Stellantis, le parti sociali chiedono un tavolo interministeriale. I metallomeccanici sollecitano un confronto a largo spettro. E poi sul taglio basso Giovanni Moricchio ricorda Giuseppe Franco De Ninis che si è spento. Impeccato bancario in pensione ex dipendente della Cassa di Risparmio. Andiamo adesso a leggere i titoli nazionali. Cominciamo dal Corriere della Sera. L'apertura è su E6 Russia. Alta tensione, scontro sul Mar Nero. Il Pentagono accusa atto pericoloso. Convocato l'ambasciatore di Putin. Washington ha detto che il jet di Mosca ha colpito un nostro drone. La replica russa. Falso. Sul taglio alto le case green invece. Primo sì europeo. Roma frena. Così cambia il fisco. Contrari i sindacati. Il primo via libera dell'OE alle case green. Entro il 2033 sarà obbligatoria la classe energetica D. E poi Coppia Mussolini, manager pubblico, abbandona l'incarico. Si è dimesso Claudio Anastasio, il manager dell'azienda che gestisce i software di IMS e Instateina. E l'aveva citato Mussolini in una mail al CDA. E poi le registrazioni all'anagrafe, i figli di Coppia Gay, la sfida di Sala e il Senato che boccia il regolamento UE. Il sindaco di Milano Sala si schiera con le famiglie omosessuali dopo il no della prefettura alle registrazioni dei figli delle coppie LGBT. E poi la cronaca, lo shock in Germania, uccisa a 12 anni, confessano le due amiche. Prima hanno negato, poi 11 giorni dopo sono crollate confessando di aver ucciso l'amica di 12 anni. La foto invece che ritrae le cinque ragazze fermate che avevano fatto un ballo senza velo in un video divenuto virale su TikTok. Ma poi il regime ha costretto le ragazze a copristi e pentirsi. Iran costrette a pentirsi per il ballo senza velo. Fermate le cinque ragazze che poi si mostrano a capo coperto. Ci spostiamo sulla prima pagina della Repubblica. L'apertura è sulle famiglie gay. Il no del centro-destra, la maggioranza boccia il certificato europeo per i figli delle coppie omosessuali. L'opposizione ha detto l'Italia come Ungheria. Roma-Bruxelles, cambiate il testo, non passerà mai l'ex presidente della consulta prioritaria alla tutela dei minori. Sul taglio alto invece i jet russi contro drone USA. Washington accusa Mosca. Scintille sul Mar Nero. La sfida ad alta quota che rischia di innescare l'escalation. Ci spostiamo adesso sulla prima pagina del fatto quotidiano. Russi e sbarchi, governo smentito pure dai servizi, ma che Putin gli 007 e 15 giorni fa avevano detto brigata Wagner ininfluente. Ecco le vere accuse. Crisi energetica in Maghreb per guerra e sanzioni e gruppi criminali in Libia. Salvini nel luglio del 2022 parlava di Cominche. E poi la Schlein che sfida Meloni, ma sui salari. Lampedusa, hotspot al collasso. Il prefetto blocca lo sciopero dei lavoratori. Troppi migranti. Sul taglio alto invece le prove di maxi guerra, scontro Moscao E6. Altro fronte cinese, non solo Ucraina. Jet Russo danneggia drone sul Mar Nero. Ci spostiamo a vedere la prima pagina del Sole 24 Ore. L'apertura ovviamente è sulle case green. L'ok del Parlamento e via libera. La direttiva in Italia. 1,8 milioni di case da riqualificare. Stop a caldaia alimentate da combustibili fossili. Bonus a ibridi e green gas. Il centrodestra ha schierato contro la direttiva a Lance che ha detto servono incentivi. E poi il super bonus, la proroga per le villette. Si blocca la partita sulla proroga del super bonus sulle villette dal 31 marzo al 30 giugno 2023. Il sostanziale via libera è arrivato dal governo nell'ultimo incontro con la maggioranza e i tecnici. Ci spostiamo adesso, continuiamo ovviamente la nostra lettura sui titoli nazionali e andiamo sulla prima pagina del mattino. La UE avanti con i rimpiatri, i migranti, la linea europea, collaborazione tra stati di origine e transito per bloccare gli regolari. I miliziani filo Putin indietro le partenze, il dossier degli 007. Così la Wagner destabilizza il continente. La foto, tedeschi a Napoli, allarme ultra, Champions alle 21. Il Napoli sfida l'Entrax dopo il 2 a 0 dell'andata. E ancora la cronaca, il sangue sulla festa dei mondiali 2006. Arrestati i killer, svolta nelle indagini a 17 anni dall'agguato. A Napoli un giovane fu ammazzato per vendetta. Urtò per errore con la bandiera il figlio di un boss. Andiamo sulla prima pagina della stampa. L'Italia discrimina i figli delle coppie gay. Voto al Senato dopo lo stop del prefetto di Milano. I sindaci, lo russo, sala, i gualtieri. Basta diseguaglianze. La maggioranza boccia il regolamento E sul riconoscimento. PD e Movimento 5 Stelle hanno detto come Polonia ed Ungheria. E poi vediamo la foto. Le rotte della speranza all'Afghanistan, dei talebani, Kabul partire è come morire. Andiamo adesso a vedere la prima pagina dell'avvenire. Sono vite in gioco, è il titolo di apertura. La UE, migranti da salvare, minimizza il ruolo della Wagner, si punti sui rimpatri e sul controllo delle frontiere. Mattarella ha detto fenomeno epocale, serve un'azione europea. E poi l'Ucraina, la foto, vediamo ritratto, è il drone USA colpito dai jet russi. Tensioni nei cieli sopra il Mar Nero con scambio di accuse intesa sul grano prorogata di due mesi. E poi la finanza, Fed interviene, le banche fanno meno paura, borse in ripresa e tassi ancora su. Andiamo adesso sulla prima del giornale. La solita Europa, casa verde e tasse rosse. Da Bruxelles l'ok, all'obbligo costoso di ristrutturare gli immobili. E spunta pure la petizione per la patrimoniale. E poi ancora la foto, il conflitto ucraino. Un jet russo abbatte un drone USA, tensione alle stelle fra potenze nucleari. E ancora il voto della maggioranza, il no ai figli delle coppie gay. Il senato boccia la norma UE. E poi il falimento della banca USA perché titoli e conti correnti sono al sicuro dal crack SVB. I mercati mondiali tirano il fiato dopo lo spavento per il crack della banca USA e SVB. Ma ecco perché i nostri conti correnti sono al sicuro. Andiamo sulla prima pagina del manifesto. Figli di nessuno dopo la circolare che blocca le registrazioni all'anagrafe di Milano. Ancora un atto delle destre contro i diritti. Al senato in commissione politica UE la maggioranza boccia il regolamento sui bimbi nati da coppie omogenitoriali. L'Italia sposta l'Europa verso Visegrad. E poi l'incidente sul Mar Nero. Washington convoca l'ambasciatore. Scontro fra caccia russo e drone USA. AUKUS fiato sul collo della Cina e sottomarini nucleari all'Australia. Da San Diego il presidente USA Baden e il premier britannico e australiano Suniak e albanese svelano il piano che toglie il freno all'AUKUS. A Cranberra saranno consegnati tre sottomarini a propulsione nucleare. L'obiettivo è contenere la Cina. Pechino ha detto atto illegale di prolificazione nucleare. Andiamo a leggere la prima pagina di Libero. Il voto dell'Europarlamento e l'apertura di Movimento 5 Stelle ci rifilano la tassa sulla casa. Il sì di Bruxelles ha la direttiva sulle abitazioni green entro il 2030. Botta da 40 mila euro a famiglia. Il governo prova a fermare tutto. Ma i dem non pagano le loro spese condominali. E poi i russi che abbattono un drone americano. La battaglia di Bakhmut apre una nuova epoca. E adesso ci salutiamo con la Gazzetta dello Sport. Champions ai quarti dopo 12 anni. Inter e vai. Il titolo di apertura. Ma poi c'è anche il Napoli. File Tris, Spalletti parte da 2 a 0 contro l'Entract. Può entrare nella storia. Osimen e Kvara per centrare il 3 su 3. Queste erano le notizie di questa mattina. Grazie per aver seguito la rassegna stampa di TVI. Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Il meteo è offerto da Casa di cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Previsioni per oggi 15 marzo. Una debole perturbazione porterà a un peggioramento delle condizioni sui settori orientali e lungo la costa, dove non sono da escludersi deboli precipitazioni. Venti rinforzo specialmente nelle aree prossime al litorale, con raffiche fino a 80 km orari. Venti forti dai quadranti settentrionali. Mare agitato. Temperature. Campobasso minima 3, massima 10. Isernia minima 5, massima 13. Termoli minima 10, massima 12. Venaforo minima 6, massima 16. Previsioni per domani 16 marzo. Miglioramento generale delle condizioni atmosferiche su tutta la regione. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali, che favoriranno un sensibile calo termico. Mare molto mosso. Temperature. Campobasso minima 1, massima 9. Isernia minima 1, massima 12. Termoli minima 8, massima 11. Venaforo minima 2, massima 15. Benvenuti all'oroscopo di oggi, martedì 15 marzo. Ariete. È la giornata giusta per recuperare il terreno perso in amore. Al lavoro sarete messi di fronte a scelte importanti, ma è arrivato il momento di dare una direzione alla propria vita professionale. Dovete capire voi che strada intraprendere. Toro. Siete sempre molto critici nei confronti degli altri, ma se abbattete un po' ai vostri muri riuscirete a fare degli incontri molto interessanti. Sul lavoro ci vuole calma, il meglio arriverà presto. Gemelli. L'amore va vissuto con più tranquillità e se incontrate persone nuove non sottovalutatele. Apritevi alle novità in campo professionale perché vi daranno tante soddisfazioni. Al lavoro però siete ancora troppo frenetici e rischiate di commettere errori. Cancro. La luna è favorevole, quindi ottime notizie in campo sentimentale. Sul lavoro siete alla ricerca di una serenità che ancora non avete trovato, ma non temete, arriverà presto. Tutto sia giusta, serve solo un po' di pazienza. Leone. Questo è un bel momento per le coppie che si vogliono bene, il cielo fino a questo weekend regalerà tanto. Attenzione però, non trascurate le cose al lavoro perché potreste restare con un pugno di mosche in mano. Vergine. State vivendo un periodo agitato e in amore, ci vuole ancora un po' di pazienza. Sul lavoro si arrivano proposte complicate e non accettatele per forza. Valutate pro e contro, non siate frettolosi. Dopotutto se non ve la sentite ci sarà un motivo. Bilancia. L'amore può essere vissuto a cuor leggero grazie a una bella luna. Attenzione all'aspetto finanziario. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora il portafogli piange. Cercate di risparmiare e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Scorpione. Attenzione perché Venere e Marte sono un po' critici e possono provocare qualche battibecco di troppo. Sul lavoro invece Giove e Mercurio aiutano ad affrontare i problemi di natura legale. Sagittario. Oggi in amore bisogna stare attenti, soprattutto se di recente ci sono state incomprensioni. Al lavoro vi sentite molto creativi e avrete anche delle belle soddisfazioni. Capricorno. La luna è dalla vostra parte, quindi buone notizie per chi è alla ricerca di qualcuno. Sul lavoro si avvicinano scadenze importanti e potreste sentirvi sotto pressione, ma forzatevi a non rimandare gli impegni presi. Acquario. È un periodo di incertezze e soprattutto oggi avrete un gran bisogno di essere rassicurati dal punto di vista amoroso. Dovrete aspettare fine mese per ritrovare la vostra solita sicurezza. Il lavoro è in fase di recupero. Pesci. Attenzione a questa giornata che è un po' confusa dal punto di vista sentimentale a causa della luna opposta. A lavoro arrivano buone idee grazie a un bel transito di Giove che andrebbe sfruttato al massimo.